fratelli bianconeri di tutto juve.com e sorelle bianconeri di tutto juve.com attenzione a quello che esce da questa assemblea juventus meno 190 milioni meno 199 per la precisione il bilancio da mettere a posto non è più l'anno zero ma è il triennio della verità perché questo è il triennio dove bisogna arrivare al pareggio di bilancio exor non immette più capitale la juve deve essere sostenibile ma questa è una cosa che sapevamo già tutti questi conti hanno fatto poi di conto con la ribellione tra virgolette vocale dei nostri piccoli azionisti che poi sono tifosi come tutti voi e come tutti noi che giustamente vogliono vincere e cercano delle risposte dalla società allora voi cosa volete dalla vostra società voi cosa volete dal vostro allenatore voi cosa volete dai vostri giocatori i vostri giocatori si esprimono oggi abbiamo visto e letto Copmeiners da una parte e con Seisao dall'altra proferir parola in intervista con degli obiettivi ben chiari in testa e allora Copmeiners dice che da piccolo tifava la juve era il suo obiettivo e in Italia ancora di più si è costruita questa sua convinzione vedendo la Juve le strutture, la società, la storia della Juve finalmente ha urlato quando è arrivato alla Juve alla sua fidanzata mentre erano in viaggio in taxi da Torino anzi contrario a Bergamo a Torino lo ha detto anche quando è arrivato alla Conte in Assa ma lo vogliamo urlare anche noi finalmente Copp quindi visto che c'è il derby magari un gollettino nel derby che rimane nella storia di questa società Blauvic è un attaccante potente dice Copp Ildiz invece è quello tecnico e Danilo per noi resta un leader ecco Danilo tanto criticato anche da noi per le ultime prestazioni rimane però quel leader di Juventinità che può trasmetterla alla squadra cosa che i piccoli azionisti e i tifosi chiedono alla società e cioè difendetevi difendiamoci aiutateci a difendervi meglio se siete sabaudi e non volete prendere posizione lasciate che siamo noi anche su tuttojuve.com a farlo ma dateci delle basi difendetevi se fate passaggi tutto se patteggiate se non siete stati in grado di trovare uno sponsor dicono i piccoli azionisti è perché il brand della Juve molto vantato e osannato dai 180 milioni di followers non può ridursi alla comunità e alla comunicazione creativa dei followers la comunicazione deve essere anche dura aspra diretta con educazione con eleganza perché lì siamo diversi dagli altri ma precisa dateci un motivo di discussione dateci una base su cui poter difenderci perché con 6 sao ammesso dagli stessi vertici arbitrali come torto ai danni della Juve meritava una difesa meritava una pressione su gravina per dirgli scusa ma se hai dato la grazia a Lukaku gliela devi dare a con 6 sao perché qua non gli puoi dare anche una giornata di squalifica e se tu ti imponi dal punto di vista comunicativo ci dai appoggio e noi possiamo combattere le nostre battaglie vocali in maniera più efficace e propositiva come ha fatto il DS della Lazio che ha fatto il giro delle sette chiese non c'è bisogno di fare il giro delle sette chiese e di tirar fuori torti quando non ci sono ma quando un episodio è eclatante farlo presente perché se la voce è quella della società diventa molto più importante e pressante e noi che la seguiamo abbiamo intanto più credibilità e poi più possibilità di visualizzazione ed ecco che il sentimento popolare forse non oggi non domani ma piano piano battaglia dopo battaglia riusciremo a riportarlo là dove deve stare e cioè dove vogliamo noi che vogliamo il nostro la Juve vuole il suo Agnelli non faceva battaglie per discutere quella situazione le faceva per parità di giudizio e cioè se io sono dentro le plusvalenze e tu mi penalizzi e mi tra virgolette obblighi a patteggiare uscendo dalla Champions meno 130 milioni che si sentono su questo bilancio che è a meno 199 perché senza quei meno 130 era molto diversa la situazione e questo diventa slealtà sportiva all'incontrario perché io non posso fare un certo tipo di mercato se tu quella situazione la vivi e prendi la penalizzazione la battaglia che aveva sempre fatto negli anni Andrea Agnelli era bene allora anche Napoli entra allora anche Atalanta se sono penalizzato io sono penalizzati anche gli altri perché io ho fatto quello che hanno fatto gli altri anzi di meno perché gli altri hanno giocatori inesistenti che non sono mai andati a fare le visite mediche anzi di meno perché ci sono squadre che dal 99 2000 ad oggi hanno continuato a fare plusvalenze su plusvalenze su plusvalenze e addirittura negli anni che furono si scambiavano i giovani e presero migliaia piccole di euro di multa alla Juve è stata disintegrata un consiglio di amministrazione una società ha la possibilità di introitare dalle coppe europee allora se è così per me parità di giudizio quello che vogliamo noi è il nostro non il resto noi siamo differenti dagli altri non chiediamo scudetti altrui noi vogliamo i nostri noi non chiediamo che le altre vengano penalizzate non vogliamo che siamo pelazzati noi però noi non chiediamo che gli altri concedano un calcio di rigore contro quando che c'è però non vogliamo quello contro noi quando non c'è noi vogliamo il nostro questa è la volontà dei tifosi cosa volete dalla società cosa volete dall'attore cosa volete dalla squadra con Seissau e le idee chiare con Seissau dice pallone di strada il dribbling l'uno contro uno o ce l'hai o non ce l'hai è un'esigenza per me vincere e non sono di passaggio alla Juve quindi se non è di passaggio la sua esigenza è vincere e sta da noi alla Juve noi dobbiamo vincere e se il triennio della verità è in bilancio metto quarto posto tutti gli anni dentro i quattro per fare la Champions e passare la prima schrematura di Champions arrivare al minimo agli ottavi mi sto legando a delle partecipazioni io azienda economica sto legando i miei bilanci futuri a delle partecipazioni sportive che riesco a ottenere solo se ho la possibilità di fare un mercato importante e di avere giocatori importanti e allora qua deve essere bravo Giuntoli qua deve essere molto più bravo ancora l'allenatore perché se il triennio è questo non credo che gli arriverà il giocatore da 12 milioni di stipendio giusto e qua anzi quello che dovrebbe averli già è in fase di trattativa perché la società vorrebbe limarli e qua deve essere super brava la squadra perché deve andare in sintonia con il cuore con Mainas dice Casperini è praticamente un sergente lui ordina lo dobbiamo fare Motta è condivisione feeling non ossessione attenzione intensità sì ma poi negli ultimi 20 metri liberi di scatenare la fantasia e così sia terbi della mole la Juve è strafavorita il Toro è sempre in contestazione con il suo presidente Cairo vedremo domani la formazione in base ai dettami che lascia trapelare l'allenatore voi mi raccomando fate sempre il vostro chiediamo alla società di difenderci ma noi dobbiamo essere i primi in prima linea a difendere la Juve a difendere a difendere a difendere